Sì, è sicuramente un bel modo per fare del bene, se solamente mettendoci la faccia, giocando e divertendosi a pallone riusciamo a fare del bene, a raccogliere dei soldi che possono fare del bene, è la cosa migliore che ci può essere. E poi è un divertimento per tutti, per chi guarda, per chi gioca, quindi è una bellissima cosa. Ma qual è il rapporto tra calcio e musica? Il rapporto tra calcio e musica credo che sia abbastanza legato, nel senso che credo che negli ultimi anni si sia creato molto amore tra calcio e musica, non lo so, un esempio credo lo faccio a Brescio che scrive l'inno del Geno, quindi credo che ci sia un collegamento importante tra tifoserie, anche odio, succede anche che magari un artista va in un determinato posto e prende insulti perché ti fa un'altra squadra. Però è bello anche questo? È bello anche quello, è bello anche quello, la competizione è bella. Beh, so che stai lavorando tanto in questo momento, eh? Sì, 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 presto arriveranno tante cose belle, non vedo l'ora. Anche perché sui social stai spoilerando ma non troppo. Sì, esatto, esatto, adesso ho iniziato con il mio nuovo canale, adesso sì, sì. Grazie. A te, buona musica, buona partita. Grazie, ciao. Grazie a tutti.